Siamo qui con Gabriele Vignalosa, volevo chiedere come mai hai scelto Cassino? Ho scelto Cassino perché ho visto subito che era una società organizzata parlando con il presidente Manzari Subito stamattina c'è stata l'opportunità di allenarci e di lavorare Ringraziamo il giovane giocatore azzurro che si intervista Oltre alle sue qualità tecniche anche quelle di giornalista Qual è il mio ruolo? Su loro è ara piccola e servire i compagni Io la parlo alla vasta e non alla vasta